Siamo a Castelbianco, Val Pennavaire, al confine fra il Piemonte e la Liguria. Non si direbbe, siamo qua in mezzo ai boschi, a 15 km dal Benga, in provincia di Savona. Da quasi 90 anni la famiglia Scola è proprietaria di questa osteria, come indica il cartello, un altro ristorante ma anche albergo che attira soprattutto i turisti che amano gli sport estremi, per cui l'arrampicata, mountain bike e passeggiate in queste zone proprio dove si gode ancora la terra e l'aria che arriva dal mare e comunque il bello della montagna. Fauto Scola, chef, terza generazione della famiglia Scola, una tradizione qua in campagna, piatti soprattutto del territorio. Sì, un po' per il cuore perché ci teniamo a mantenere comunque le radici ben collegate al nonno che è nato qua, il papà, io e poi Gabriele che sarà la quarta, e un po' perché la tradizione nostra vuole un terroire, come dicono in Francia, quindi tutto il prodotto che adesso si usa dire chilometri zero, però il nostro prodotto. Abbiamo la Piana del Benga qua vicino che è una miniera di prodotti veramente unici, così come il Basso Piemonte che c'è appena alle spalle, che inutile dire è ben conosciuto per altri problemi, ma prodotti di grande lena. Una cucina che praticamente rispetta le stagioni, tolto se vogliamo un po' d'estate, qualcosa di mare, ma come abbiamo detto di terra, partiamo dai ravioli che li fate direttamente a mano voi. Sì, i ravioli sì, come tutta la pasta, le origini piacentine della nostra famiglia, perché la mamma di Piacenza hanno fatto sì che comunque la pasta tenesse in onore. Il raviolo è ligure alla grande, quindi sempre, ma il raviolo, il tagliolino, il tortellone, tutta la pasta, così come tutta la panetteria, paste, focacce, pane con lievito madre, di ottime farine, di costato belbo, il buratto, la focaccia, la sardinaia, così come tutti gli aperitivi, la panissa, diciamo che la mano ha il 99% dentro il nostro menù. Qua abbiamo un esempio dei vostri piatti, ad esempio il filetto marinato. Questo è un filetto di vitello, estivo, praticamente estivo, e ha, per ogni chilo di carne, molto facile, un piatto estivo, per ogni chilo di carne, ben pulita, 10 grammi di zucchero di canna, 10 grammi di sale grosso e 10 grammi di aromi misti, senza l'alloro, tutto trittato e diciamo che si faccia con una pellicola questo filetto che viene messo a macerare per un giorno intero, una volta pulito, si condice con un goccio d'olio, naturalmente ligure, extravergine e basta, tutto qua. Gli aromi come presentazione, in questo caso all'interno abbiamo messo una julienne di trombette che è la zucchina principe di albinga, di cui adesso stiamo partendo alla grande. Altro piatto, quello con le uova di quaglia. Le uova di quaglia, oggi è uova di quaglia, all'interno abbiamo una fava tardiva che diciamo che stiamo finendo, diciamo così perché ormai siamo alla fine, si può sostituire con una crema di piselli, passata al setaccio, poi abbiamo una ricotta stupenda della Toma Brigasca qua di albinga e il tartufo nero scorzone che è il nostro e l'uovo di quaglia in camicia che diciamo che richiama questo matrimonio uovo e tartufo che ben conosciamo. Gabriele il figlio, il sommelier di famiglia, una cantina che fra l'altro è ben rifornita, mi sembra ben 500 etichette. Esatto, si sono 500 etichette, 70% di etichette in rosso per la tipologia di cucina che facciamo, dove il Piemonte e la Liguria sono le più rappresentate, per territorialità la prima e per valore enologico appunto il Piemonte, perché comunque Barbera e Nebbiolo ci sono sempre stati qui. Ecco, la clientela che cosa predilige? La più alta vendita e la più alta richiesta sia sui bianchi liguri perché comunque lo collegano al nostro territorio, lo collegano ai nostri piatti, si vede all'asparago come la zucchina che prediligono vini bianchi, e quindi vanno per la maggiore i bianchi territoriali, che siano Vermentino, Pigato o Lumassina. Il Piemonte quando arriva l'inverno, diciamo, diventa attore protagonista con i suoi rossi.